Il marito è stato fermato dopo l'interrogatorio che ha affrontato in pieno stato confusionale. Troppi litigi, le urla nel pianerottolo. Il cadavere è trovato ieri pomeriggio, quello della 46enne Caterina Di Stefano, nel suo condominio a Caltagirone, nel Catenese. Subito la polizia ha interrogato oltre l'uomo anche diversi testimoni. I vicini di casa avrebbero detto ai soccorritori di aver sentito urlare nel palazzo. La donna aveva avviato da un mese la causa di separazione, iniziativa che l'uomo non aveva accettato. I due avrebbero avuto una lite sul pianerottolo della casa della vittima che non presenta colpi di arma da taglio e neanche da fuoco. Sul posto la polizia scientifica e il medico legale per i rilievi del caso, poi il fermo. Giuseppe Randazzo, 50 anni, ceramista, accusato dell'omicidio della donna che era un' operatrice sociale. La coppia aveva anche due figli, lui da lei non voleva proprio separarsi e questo sarebbe stato il motivo di diversi litigi, l'ultimo quello di ieri sera. L'uomo avrebbe sostenuto che la moglie sarebbe caduta dalle scale ferendosi mortalmente. Una ricostruzione che però non ha convinto la procura di Caltagirone. L'uomo adesso è stato portato in carcere dove si trova tutt'ora.